Grazie veramente a loro che ci hanno messo a piatto, grazie ragazzi. Adesso, non è niente di bilancio, ci saranno i momenti seri, però quello che vorremmo dirvi è che ce la stiamo veramente mettendo tutta. C'è ogni tanto un incidente di percorso, per chi l'ha vissuto, c'è stato l'unità scorsa, però siamo lì. Quando succede qualcosa di questo genere siamo pronti a farvi le scuse e a far sì che la tua esperienza si possa migliorare e credo che lo faremo questa volta. Adesso, terzo e ultimo balletto.